Allora, focaccia allo Chaketra. Chaketra, un vino liquoroso delle Cinque Terre, molto famoso e molto costoso. Abbiamo usato delle mele golden, ma potevamo usare delle mele renette, insomma delle starche, tagliate finemente insieme a uvetta e pinoli. Allora mettiamo lo Chaketra e li lasciamo in infusione per circa mezz'ora. Sgusciamo le uova e le montiamo insieme al zucchero. Non ti preoccupare se si rompono perché abbiamo una torta di mele, quindi ci sta. Il risultato dopo aver amalgamato le mele che avevamo messo a macerare nel Chaketra, ora trasferiamo in una teglia che è stata precedentemente imburrata e infarinata. Ok? E inforniamo per circa 35-40 minuti a 180-200 gradi. La torta è cotta, l'abbiamo lasciata un po' raffreddare, poi abbiamo spolverizzato la superficie con il Dello Chaketra che è pronta per essere degustata.